A bordo della corvetta Surprise, Elisabetta d'Inghilterra e il Duca di Edimburgo, è la rivista navale dell'incoronazione. Filippo indossa la sua divisa di ammiraglio. Oltre la regina madre vedremo la principessa Margaret, Lady Mountbatten e Churchill, vecchio navigatore. Da più di quattro secoli su queste stesse acque si svolgono le parate navali britanniche. Le maggiori flotte del mondo sono rappresentate. Un acrobatico a tenti arriva porta il nome d'Italia, da bordo della Vespucci. Una flottiglia di elicotteri Dragonfly solvola lo schieramento mentre tuonano le salve e gli urrà da queste sentinelle della sicurezza sui mari.